È arrivato uno dei periodi più attesi dell'anno qui al Valdichiana Village, quello dei saldi estivi, si sono già iniziati a vedere i primi turisti. Sì, fortunatamente sì, abbiamo accolto la clientela nuovamente in un ambiente rinnovato, con nuovi spazi verdi, aria relax, con tante nuove insegne e fortunatamente abbiamo accolto anche le prime famiglie di turisti tedeschi, austriaci, francesi, inglesi, che fanno capolino in questo territorio meraviglioso e abbiamo offerto loro una rinnovata esperienza di shopping con la convenienza dei saldi del Valdichiana Village. Questo è stato il primo fine settimana di saldi, cosa cercano i clienti? I comportamenti di acquisto e la propensione all'acquisto da parte dei consumatori riflettono quelle che sono le dinamiche innescate dal periodo pandemico ed è inevitabile che sia così. Ai picchi di vendita legati a tutto il mondo della casa, generalmente inteso, quindi beni e prodotti per la casa, ma anche homeware, sleepware, si affiancano gli acquisti tradizionali del periodo, un consumatore è sempre più attento all'acquisto intelligente, all'acquisto di prodotti durevoli, di buona fattura, ma che possono essere anche utilizzati utilmente nei primi mesi autunnali. Quindi la camiceria, la felperia, la maglieria, tanto cotone, soprattutto denim, ma soprattutto vestibilità comode, wide pants, long dress, un abbigliamento comodo che non può che essere il retaggio, il riflesso del periodo pandemico da cui fortunatamente stiamo uscendo. Questi infatti sono i saldi della ripartenza, come è uscito il Valdechiana Village? Avete passato mesi indubbiamente bui anche voi? Sicuramente è stato un periodo complicato, fortunatamente abbiamo sempre raccolto la fiducia dei nostri consumatori, attivando una serie anche di servizi nuovi a partire dallo smart shopping, cioè dalle vendite a distanza, che hanno mantenuto un link sempre attivo con la clientela e adesso fortunatamente ne raccogliamo i frutti e raccogliamo la possibilità di riospitare tutti i nostri affezionati clienti.